E l'Airof, ridente isola dell'oceano Pacifico, punta al futuro, non dimenticandosi però delle sue radici. Infatti, la struttura centrico-incentrici riprende le piante romane delle più grandi città italiane. Presenta una struttura architettonica fuori dal comune. Avete la possibilità di scegliere se vivere in centro o in periferia. Nel primo caso, alloggerete in uno dei gratticieli antisismici rotanti di Fischer. Nel secondo caso, avrete l'opportunità di svegliarvi in una delle case bioarchitettoniche di Wright. Tutta la città è autonoma dal punto di vista energetico. Le centrali elettriche sono state sostituite da paleoliche, pannelli solari, centrali idroelettriche. Immaginatevi di poter pregare nella Sagrada Famiglia, di attraversare uno dei ponti di Calatrava, per raggiungere la vostra scuola, il Bauhaus. Di fare una romantica passeggiata sotto le luci di Jong-un Lee. E poi, di visitare i più grandi musei. Tutto senza dovremmo prendere nemmeno un aereo. Questa è l'Eirof.